L'approvazione in Consiglio Comunale a Chieti della mozione sulla registrazione anagrafica delle coppie omogenitoriali, di fatto, ha provocato qualche dissenso interno alla maggioranza. La questione è sempre la stessa, quella dei diritti civili, ma, rimarca Silvia Di Pasquale del gruppo civico Chiama Chieti, la trascrizione sugli atti di nascita dei nomi di entrambe le mamme o i papà ha di fatto un vuoto normativo. Invitiamo a rimanere rispettosi di ciò che in questo momento le circolari ministeriali stanno imponendo ai sindaci di ogni comune della nostra Italia. Ci tengo a ribadire che nella maggioranza può succedere e succede nelle grandi famiglie di avere idee differenti, questo non significa che c'è una qualsivoglia spaccatura, anzi andiamo perfettamente d'accordo. Ci sono temi che, mi permetta di dire, sono ideologici e pertanto non sempre corrispondenti alla stessa visione. Siete contro? Sì, non fosse altro perché ho ribadito anche in aula il concetto che attualmente in Italia non esiste una normativa vigente che consenta la registrazione di questo tipo di atti. Il polo civico lamenta che si tratta di una mozione in un certo senso che in qualche modo spinge il sindaco ad agire contro l'Egem. Guardi, l'avvocato Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, quindi sicuramente un'istituzione importante dal punto di vista dei diritti civili, ha riconosciuto che la circolare inviata dal Ministero non è giuridicamente vincolante. Mi affido quindi a chi ha da sempre difeso i diritti civili seguendo la norma della giurisprudenza, non solo poi l'avvocato Filomena Gallo, ma anche se ci siamo affidati a quella che è stata la linea sia della Corte Costituzionale con le sentenze 32 e 33, sia con tutto quello che riguarda la norma europea. Abbiamo votato l'altro ieri una mozione presentata dal sottoscrittore del consigliere Raimondi che chiedeva appunto al sindaco di continuare a registrare i figli nati all'estero da coppie omogenitoriali. Questa mozione è passata in seconda convocazione con 14 voti. Ci sono state sicuramente delle opinioni discordanti, però siamo contenti del fatto che siamo riusciti a portare a casa il risultato.